Annuncio da parte del sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, sulle nuove telecamere installate per le strade della città. Un investimento di 200.000 euro con il quale attraverso la tecnologia verrà esercitato più controllo. Il sindaco dichiara che ciò serve a rendere il territorio più sicuro. I lavori partiranno a breve e nei prossimi giorni i cittadini assisteranno al montaggio delle apparecchiature, con le quali sarà possibile rilevare targhe di auto e moto, utilizzandole anche per sanzionare le infrazioni. Le telecamere di videosorveglianza saranno collegate con il comando di polizia municipale, cosicché, afferma il sindaco, i delinquenti potranno essere arrestati e al tempo stesso verranno inibiti i malintenzionati. È il compimento di un ciclo che è iniziato qualche anno fa, dai 750.000 euro per la transizione digitale del PNRR, ora, oltre alle vecchie apparecchiature che verranno mantenute continuamente, sottolinea della ragione, ne verranno installate delle nuove. Saranno ovunque, dalle strade, alle piazze, fino alle piste ciclabili. In totale, il comune avrà in servizio più di 80 telecamere. Questo obiettivo è stato raggiunto con l'aiuto degli assessori Rosaria Di Meo, assessore al bilancio, e Vittorio Ambrusino, assessore al demanio e al commercio.